buongiorno amiche amici allora io stamattina andrò a fare un video veloce veloce e farò vedere l'inizio basta dunque stamattina ho ideato di fare una bella pasta e lenticchie visto la temperatura la giornata piovosa una buona minesta calda ci sta benissimo allora io qua come vedete ho messo già le lenticchie avevo un barattolo ho preso quelle sono più veloci dunque ora qui sta bollendo io ho fatto soffriggere uno spicchietto d'aglio poi l'ho tolto poi ho inserito le lenticchie ho tagliato una costa di sedano e due carote eccole qua tutte a pezzettini e e poi quando l'aglio ha soffritto ho tolto l'aglio come ho detto ho messo giù le lenticchie e ho messo il peperoncino e questi odori ho aggiunto dell'acqua e e ora si fa si cuoce non ho messo sale perché la lenticchia un barattolo è già salata ecco qua e qui oggi andrò a fare una bella minestra ci metterò la pasta mista poi spaghetti spezzati ecco qua amiche ora io qui lascio che si cuociono le verdure si ritira un po l'acqua al punto giusto che andrò a mettere poi questa pasta mista e qui è tutto questo amiche c'è un profumino qui di lenticchia molto buono e niente ho voluto farvi vedere anche oggi un piccolissimo video ok amiche vi saluto e vi auguro tutti un buon sabato qui da noi piove tempo brutto e stiamo vicino agli alluvionati da romagna io ho fatto anche un post non so se l'avete visto e io ritengo nel cuore perché l'anno scorso è successo anche nelle marche a senegalia alle parti del mio compagno e so cosa vuol dire e anche qualche anno fa siamo andati a aiutare un amico di mio compagno guarda hanno fatto c'è stata l'alluvione e so cosa si trova va bene stiamo vicino a queste persone ciao a tutti amiche buona giornata ciao